musica 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 eeeeh 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 ce l'avete un rasoio a casa? musica non non c'ho voglia di farmi la aiuto video tag ciao bindi allora cominciamo con le domande proprio così andiamo quando hai iniziato col pc? a 8 anni da quando navichi sul web? perchè? da 8 anni c'era un sito che si chiamava Virgilio Junior e andavo la per giocare ai giochi di quel sito quanto tempo passi online? troppo eeeh troppo 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 con che console preferisci giocare? voi lo sapete vero? playstation 2 fantastica la console più bella del mondo ragazzi la console più bella del mondo e al secondo posto c'è la wiiu giochi preferiti? allora anche questo molto probabilmente lo sapete già comunque il primo gioco preferito è l'open la morte e zenigata l'amore per la playstation 2 poi c'è dragon ball z buio kai tenkai g2 per la playstation 2 e poi c'è mario kart che comprende mario kart 8 e mario kart wii poi mario galaxy i due mario galaxy mario galaxy 1 e mario galaxy 2 anime preferiti? io di anime non è che ne abbia visti tanti ho cagato boh non so se lupen è un anime però si lupen e poi ho guardato ho guardato death note e poi ho guardato che cosa ho guardato poi e poi vabbè dragon ball riguardi ancora? assolutamente si forse è un forse se non guardo video su youtube guardo gli anime io veramente ogni tanto mi metto a guardare qualche film ma principalmente mi guardo cartone cosa ne pensi dei cosplayers? allora loro sono liberi di fare quello che vogliono anzi anzi aggiungo una cosa mi piacerebbe fare il cosplay di super mario e si non so se l'avete notato da questa foto però vabbè leggi manga e fumetti? allora si e no nel senso che ne leggo uno ogni morte di papa e quindi insomma diciamo no però si qualcosa ho letto libri che ti appassionano? non ho mai letto un cazzo di libro di mia spontanea volontà tranne da piccolo i libri di luigi carlando che si chiamavano bol ed erano fighissimi poi però per il testo niente un cazzo di libro proprio non lo prendi in mano ma neanche a morire a meno che non si tratti di scuola allora serie tv preferite non so che cosa intendete per cosa si intende per serie tv in generale però anche qua io andrei sui cartoni perchè io di serie tipo The Walking Dead quella roba là ma io non me lo guardo so come cazzo si chiama lui queste cose non le ho mai guardate piuttosto che ne so mi guardo ehm allora mi sono guardato How I Met Your Mother o ehm my name is her mi ricordo my name is her che era fighissimo comunque queste due a grandi linee poi vabbè alla sera mia mamma mi costringe a guardare un posto al sole e devo dire che a furia di costringermi me lo sta anche facendo piacere purtroppo film preferito allora due sono i film uno è un film e uno è un cartone il cartone è il pianeta del tesoro perchè è un film favoloso come film quasi amici che cellulare hai? allora cellulare il mio cellulare è qualcosa di fighissimo è un samsung galaxy s2 plus plus e devo dire che è una cosa cioè funziona troppo bene funziona troppo bene questo telefono è il telefono con cui faccio tutti questi video qua ok cosa ne pensi della tecnologia? beh io penso che senza tecnologia non sarei quello che sono adesso e quindi devo molto alla tecnologia perchè è quella che secondo me ha fatto gran parte della mia personalità e quindi grazie tecnologia quello che mi piace della tecnologia è che quando si giunge a una certa scoperta come ad esempio facciamo così facciamo un esempio tipo non lo so fanno la playstation 4 no nel momento in cui fanno la playstation 4 te ti rendi conto che oltre alla playstation 4 cioè la playstation 4 è che non so il non plus ultra delle piattaforme videoludiche ok? poi però man mano che vai avanti nasce la next gen arriva la playstation 5 e la playstation 4 va a farsi fottere e quindi quello che per prima eh shish e quello che prima era un mito per te possiamo dire così qualcosa di non superabile diventa niente diventa un gradino più in basso rispetto alla novità è questa la figata che la novità va sempre a fottere le novità prima e questa cosa mi piace eh tag a chi vuoi allora chi è che taggo? taggo il portale di Chris Peppe YouTube TheTedHD PriceTheIrish e WhiteGoat play and share fine del video tag ciao bimbi e io vado a registrare come un malato bella